Sì, però non è come pensa. Sono il Palletano. Lei chi è? Commissario Cirinbilla. Cirinbilla. Sì, buonasera. Piacere, Roberto. Molto piacere. Piacere. Voglio capire cosa sta succedendo perché non riesco a capire. Volevo spiegare? Allora, sono sei mesi di indagini. Abbiamo tracciato tutti quanti gli indirizzi IP che partono da questo luogo e creano giga giga di film mini porno che vanno su tutte le piattaforme. Newporn, Pornhub, ma addirittura è brutto. E questo che lo dico con preoccupazione, che sono andati su Deep Web. Conosce Deep Web, sa cos'è? So cos'è. Ecco, e quindi il magistrato sta arrivando. A proposito, il magistrato dov'è? Ma a morire serve il caso del magistrato adesso. Tu mi stai zitto. Sei in una situazione del m***o. Non hai capito? È successo veramente. Non è quello che pensi. Veramente? No, non è niente. Scusa, Roberto. Tu cosa avevi pensato si trattasse? La supernova? No, Dio per no. Pensate che stai a dire? Tu sei il capo di sozione in mezzo a una manica di z***o. Buone voi, zitte. Commissario, la prego di mantenere un contegno. La prego. Contegno? Sì, contegno. Lei è nelle condizioni di dirmi come mi devo comportare io? Io sono nelle condizioni di cercare di capire. Che cazzo? Sono sei mesi di vita. Ma sei mesi di cose che noi negli ultimi cinque mesi non ci siamo mai stati qua? Lei non ci è stato. Io insieme a tutta la squadra. Ma non mi sembra. Sei mesi? Ma non lo dico io, ma glielo posso garantire. Ma secondo lei io vorrei da lei con sta faccia? Beh, guarda, ognuno ha la faccia che se merita e non mi scambierei con la sua. Ma a parte questo. Ma sta offendendo per c***o? No, lei mi sta offendendo. No, lei mi sta offendendo.